Accanto l'augurio anche una garanzia della benedizione del Signore. Certamente lui ha tanti... Il Padre Eterno ha realizzato un mondo molto ricco e variato. Alcune ormai esperienze sono sempre più condivise, in modo che è diventato un piccolo villaggio dove la gente non solo si scambia, ma anche dove i prodotti si trasmettono. Credo che questo sia una delle novità uniche in Portoguaro, perché tra Portoguaro e Madagascar c'è qualche chilometro e un po' di distanza. L'augurio è che il lavoro possa essere veramente... a soddisfare lo sforzo che avete compiuto e conoscendovi bene siete in cammino verso i primi passi faticosi appena arrivati qui da noi e avete via via maturato e realizzato qualcosa di bello a partire dalla famiglia di Francesco e poi Mirco. Ecco, se quella forbice lì la utilizzassi per tagliare i capelli, così diresti tu? Così riccioli, così belli, vero? Diciamo Padre Nostro e affidiamo al Signore anche la vostra attività. Grazie. Grazie.